Bentornati sul canale L'Italy nel mio cuore. Oggi con le ultime notizie come Il famoso inviato speciale dell'Isola dei Famosi, Alvin, è stato costretto ad eliminarlo dai giochi per via di un imprevisto completamente inaspettato Ecco tutti i dettagli a riguardo e cosa è realmente accaduto Alvin caccia il naufrago.Come ben saprete il rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Ilari Blasi va in onda con diversi appuntamenti settimanali Per fassi che il programma segui una scaletta precedentemente stabilita tutti coloro che lavorano dietro le quinte non solo devono costantemente preoccuparsi e si far coincidere ogni singolo avvenimento Proprio per questo motivo infatti la stessa conduttrice ha un aiuto molto importante che si trova direttamente sull'isola dove vivono tutti i concorrenti membri del cast Stiamo ovviamente parlando dell'inviato speciale che vediamo sempre a stretto contatto con i naufraghi, i quali inoltre si affidano completamente a lui per ogni comunicazione importante o semplicemente per le decisioni quotidiane più importanti Alvin isola dei famosi. Lui infatti si trova sull'isola, ovviamente in condizioni molto più confortevoli, proprio per questo lui segue costantemente ogni loro passo ed è perennemente pronto ad intervenire in caso di emergenza Proprio come avvenuto solo qualche ora fa. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e perché si è ritrovato costretto ad intervenire inaspettatamente Alvin costretto ad interrompere il gioco di un naufrago in particolare all'isola dei famosi, i dettagli Secondo quanto riportato direttamente dai stessi interessati nelle ultime ore è a curo un avvenimento del tutto inaspettato Ovviamente il tutto si è svolto sotto gli occhi di tutti i presenti e di tutti i collaboratori della conduttrice, ovvero gli opinionisti e tutti coloro che lavorano dietro le quinte del programma Di fatto perfino il pubblico ha assistito alla scena surreale senza però capire effettivamente cosa sia successo sull'isola E' giunta l'ora quindi di fare chiarezza e capire chi è il naufrago interessato Edoardo Tavassi e Alvin. Come vi dicevamo nella scorsa puntata è accaduto un episodio surreale Quando il giovane inviato speciale tentava di spiegare le regole del gioco un naufrago H ha iniziato a trattare un discorso completamente inaspettato La stessa conduttrice è rimasta senza parole davanti alle sue dichiarazioni Il naufrago in questione è ovviamente il giovane Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, il quale si trova sull'isola ormai da diversi mesi A quanto pare il concorrente ha avvertito un dolore intimo inaspettato Ha poi provato a comunicare la notizia alla stessa conduttrice, con l'aiuto dello stesso inviato Il quale ha poi spiegato semplicemente che si trattava di uno sfregamento del costume che, con l'acqua salata, ha causato un rossore nella zona intima del concorrente Dopo aver chiarito il tutto la conduttrice, insieme agli opinionisti, si è fatta una grossa risata Alvin poi si è ritrovato costretto ad interrompere il discordo di Edoardo poiché doveva spiegare le regole del gioco nell'immediato Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao Ciao